Il pilone è crollato del tutto. Lo so, Mac. Avviciniamoci prima che arrivi la tempesta. Una volta installati i piloni, sarebbero serviti 200 anni per stabilizzare l'atmosfera. Ovviamente, in caso di guasti, la situazione era imprevedibile. La porta è inattiva. Chissà se possiamo usare il nucleo che abbiamo trovato per riattivarla. Wow! È bello mettersi al riparo dalla tempesta, eh? Bene, cerchiamo i comandi del pilone. Ehi, un'altra placca da trasporto! Proprio come quella dello spazzasabbia. Vediamo. Ah, c'è qualcosa incastrato nel buffer di memoria. Sì, sono umana, certo. Mi chiamo Joule. Tu, invece? Violet. V-1-0-L-T. Oh! Sei tu a bloccare le placche da trasporto! Perché? Rivoluzione. Credo che a Violet manchi qualche rotella. Ci siamo capiti. Sospettavamo che ce ne fossero altri sottoterra. Lassù! I comandi del pilone! Forza, Mech! Forse un nucleo non basta da solo. Ce ne servono altri per riattivare il pilone. Guarda! La serratura di questa porta ha un codice a colore. Che c'è, Mech? Che bella sorpresa! Oh! Un amplificatore rosso! Forse mi aiuterà con quella porta. Mi a votato. Forse! Inicali! Perchèmereopod. Perchèmere Кор... Perchèmere lo il vento! Grazie per la visione! Ecco il nucleo. Ora devo solo sbloccare la presa d'energia. Questa placca a pressione deve essere collegata alla presa d'energia. Ma mancano le batterie. Un bot batterie! So dove portarti, piccoletto. Seguimi! Solle attacchi! Solle attacchi. Solle attacchi. Anche i giocatori! Grazie a tutti. Nucleobite ad anello. Mi aiuteranno ad attraversare l'area. Grazie a tutti. Adesso devo estrarre il nucleo. Ora ne mancano solo due. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.